Sì, c'è a Brucchi ancora insomma, quindi la sera deve stare qua, sì, dovrà due giorni. No, no, non c'è a Brucchi, solo noi da uno specialista, ma è due mesi, invece la sera non può prendere umidità, non può sudare. Sì, c'è a Brucchi ancora insomma, quindi la sera deve stare qua, sì, dovrà due giorni. Sì, c'è a Brucchi ancora insomma, sì, dovrà due giorni. Sì, c'è a Brucchi, solo noi da due giorni. Sì, c'è a Brucchi ancora insomma, quindi la sera deve stare qua. a a a a a Grazie a tutti 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 Grazie a tutti